Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre con un altro caso di legionella che interessa il territorio aretino, la cronaca nel servizio di Chiara Sadotti. È morta all'ospedale San Donato di Arezzo una donna per il batterio della legionella, è il secondo caso che interessa il territorio aretino in poche settimane. La situazione è arrivata a un punto, non posso dire di non ritorno, ma non più di attenzione, ma di allarme. Il caso è stato attenzionato dall'azienda sanitaria che ha inviato anche la richiesta di un'ordinanza al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli datata 3 febbraio, nella quale però non si chiede la chiusura della struttura né tantomeno il blocco dei ricoveri come invece era accaduto a dicembre per la clinica San Giuseppe di Via Fleming. Qui una donna di 64 anni era stata ricoverata per un intervento chirurgico e successivamente era morta a fine gennaio a causa dell'infezione. Io sono molto preoccupato perché di fatto un caso di legionella in una struttura sanitaria, da informazioni assunte, in qualche settimana si domina, si risolve, si azzera. Qui addirittura c'è stata un'espansione, ovviamente in un'altra struttura completamente diversa, quindi evidentemente casi diversi ma che sottendono la stessa, evidentemente non sufficiente attenzione alla cura delle acque di queste strutture sanitarie. Per il caso di queste ore è arrivata anche una nota da parte della struttura privata oggetto dell'ordinanza, la San Giuseppino Sanità. Le prescrizioni richieste dal sindaco del comune di Arezzo in ordine al controllo e alla sanificazione della struttura erano già state assunte antecedentemente dalla casa di cura. La stessa nel frattempo aveva già operato attività di autocontrollo risultato all'esito negativo alla legionella. Nel frattempo è arrivata anche una precisazione da parte dell'ANSL. La paziente era ospitata in una struttura sanitaria convenzionata dal territorio aretino dove era adegente. E' stata quindi ricoverata in ospedale già con l'infezione da legionella e da causa di essa. Il sindaco di Arezzo infine chiede chiarezza. Ho scritto una nuova lettera al direttore generale d'Urso che stavolta ho mandato per conoscenza anche al prefetto e anche al nucleo di sostifisticazioni dei carabinieri di Firenze perché ritengo che questo modo di procedere a piccoli passi per salvaguardare ovviamente per quanto possibile l'attività connessa con le case di cura ma in questo caso sembra non essere stato sufficiente dia gli esiti che tutti noi ci auspichiamo e cioè che questo tema della legionellosi venga risolto definitivamente. Dopo il vaccino anti-covid uscì dal lab CAD e riportò varie fratture e denunciò i responsabili del centro vaccinale per negligenza ovvero per non aver fatto in modo che le persone alle quali era stata somministrata la dose rimanessero in osservazione il luogo idoneo in tempo necessario. Questa mattina la decisione del GIP Claudio Lara non luogo a procedere perché il fatto non sussiste e sono stati così prosciolti dalle accuse sia il medico che la dirigente infermieristica responsabile appunto dell'organizzazione del centro vaccinale. Traffico bloccato in Viale Michelangelo ad Arezzo c'è stato un incidente questa mattina in prossimità dell'area di parcheggio Eden appunto che secondo le prime informazioni ha coinvolto un pedone che sarebbe stato investito appunto da un'auto sul posto. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo i mezzi dell'emergenza a urgenza. Il ferito non ha per fortuna riportato particolari traumi. Il traffico come dicevamo ha invece subito pesanti ripercussioni. Parliamo di bollette. Ad Arezzo la bolletta del gas più alta della Toscana. L'analisi arriva dall'osservatorio sull'energia in Toscana da parte di Facile.it prendendo come riferimento l'andamento nell'anno 2022 rispetto al 21 c'è stato un aumento del 108% per la bolletta dell'energia elettrica e addirittura ancora un più 57% per quanto riguarda quella del gas. Gli aretini spendono in media 1.471 euro per la luce e oltre 1.500 per il gas. Secondo questi dati la provincia di Arezzo è risultata in Toscana quella dove si è speso di più proprio per il consumo del gas. Domani seconda assemblea del comitato Stop Puzzo ad Arezzo. E allora sentiamo meglio i dettagli nel prossimo servizio. Sono passati alcuni mesi da quando il comitato Stop Puzzo ad Arezzo si è mosso con le istituzioni a retine per risolvere il problema dei cattivi odori che spesso si sentono nelle zone di Chiani, Via Romana, Le Poggiolo e Battifolle. Dopo le innumerevoli segnalazioni raccolte anche sulle pagine social del comitato, venerdì 17 febbraio alle 21 si terrà un'altra assemblea dei cittadini presso il circolo di Chiani, la seconda dopo quella di novembre scorso per dare aggiornamenti sulla situazione odori molesti. Il comitato riporterà tutto ciò che le istituzioni e gli organi di controllo stanno facendo e il lavoro che è in procinto di essere svolto per risolvere la grave problematica. Il disagio è forte, ribadisce il comitato. Alle porte della primavera i tempi si stringono e il timore di ritrovarsi di nuovo a finestre chiuse aumenta. Tanti ancora gli approfondimenti da fare ma sia Arpat che Asla stanno collaborando. Il comitato ci tiene infine a ribadire che a politico si tratta di un gruppo di persone che a cuore la salute e la sicurezza pubblica perché la vita è un diritto di tutti, non un privilegio per pochi. Torniamo a parlare di sanità perché c'è l'intervento da parte del vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti. In attesa della riunione dice richiesta a gran voce di concerto con i sindaci della zona retina, destinatario l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. La cosa che sorprende, dice la Tanti, sulla situazione dei servizi di emergenza e urgenza è il fragoroso silenzio proprio della regione e dei responsabili della sanità toscana, ovvero di coloro che si trovano, dice sempre Lucia Tanti, in enorme difetto su tutta la questione che appunto riguarda le tariffe per i rimborsi alle pubbliche assistenze, un problema insomma che si sta protraendo davvero ormai da tempo. E siamo alla politica. Tommaso Pierazzi, consigliere comunale a San Giovanni Valdarno, è stato nominato dal presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, coordinatore territoriale della provincia di Arezzo. Ringrazio Conte, dice il coordinatore regionale Galletti, per la fiducia accordatami insieme agli altri coordinatori territoriali ci impegneremo a riavviare un percorso di partecipazione e di ascolto partendo proprio dai territori un grazie ai tanti attivisti e portavoce presenti in tutta la provincia di Arezzo che da oggi saranno chiamati a rinnovare con maggiore consapevolezza il loro impegno appunto fondamentale. Parliamo adesso invece di Carnevale perché per questo martedì grasso il prossimo 21 di febbraio è stata organizzata di nuovo dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia una grande festa in centro e in particolar modo in piazza Sant'Agostino. Coriandoli, maschere, trenino, musica e divertimento per festeggiare l'ultimo di Carnevale. Martedì 21 febbraio torna la festa in piazza Sant'Agostino. A partire dalle 15.30 le bambine e i bambini potranno salire sui vagoni dell'intramontabile trenino del Carnevale dell'Orciolaia ed ammirare le maschere Disney tra cui Migni, Topolino, Paperina, Paperino, Pluto e tantissimi altri. In piazza Sant'Agostino arriverà anche la wiki race. Attesa poi la partecipazione delle maschere barocche del Carnevale dei figli di Bocco ed infine ad animare la serata la musica e il karaoke del trio Beppe, Marco e Robi. Abbiamo creato questo evento che è un evento l'ultimo di Carnevale dove la gente ovviamente sarà sia di giorno che di sera sarà un po' al giro quindi abbiamo pensato di convogliarli tutti in piazza Sant'Agostino per fare una cosa più bella insomma, tutti insieme ci divertiamo di più. Ecco una giornata dedicata ai bambini, li invito a presentarsi mascherati. Sì, non solo i bambini ma anche i genitori, più siete mascherati più ci divertiamo. Un'iniziativa fortemente voluta dai commercianti di piazza Sant'Agostino. Noi miriamo su questi eventi, tanto va fatto un ringraziamento veramente doveroso alle associazioni di caderia, con me c'è confeseccenti che veramente loro lavorano a tutto tondo per riqualificare tutto quello che è il centro storico. Noi siamo orgogliosi di ospitare numerosissimi bambini li aspettiamo tutti veramente con braccia aperte per farvi mangiare, bere, divertire e musica fino a tarda notte. Grande successo per lo spettacolo al Teatro Petrarca Mine Vaganti. Il servizio. Ma che l'ha fatto? Mamma, ma ti fai parlare da sola adesso? Poi gli avrai cercato? Io non ci credo che tuo fratello sia... Omosessuale. Ma io sono la madre, ma ne sarei accorta, no? Le Mine Vaganti di Ferzan Ospetek al Teatro Petrarca di Arezzo. Una prima regia teatrale, quella del regista turco che ha messo in scena l'adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici, vincitore nel 2010 di due premi, David di Donatello e di Cinque Nastri d'Argento. La storia di Mine Vaganti è raccontata in modo leggero, si rite anche tanto, però non mancano spunti di riflessione, anche di commozione, di magia. È stato bravo a riportare in teatro una storia che lui aveva fatta al cinema con il linguaggio teatrale. Cioè lo spettacolo scorre sempre, non ci sono pause. Ed è stato bravo, abbiamo lavorato bene insieme. Al centro della vicenda, la famiglia Cantone, proprietaria di un pastificio in un piccolo paese del sud, con le sue radicate tradizioni culturali, alto borghesi e di un padre desideroso di lasciare in eredità l'azienda ai figli. Tutto precipita quando il figlio Antonio si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il secondo genito Tommaso, tornato anche lui da Roma per raccontare la sua verità. Tu lo sapevi, di la verità, tu l'hai sempre saputo? Sempre no. A me l'aveva detto, ma poteva anche non dirmelo. Cosa cambia? Per te che cosa cambia? Antonio, sempre tuo figlio oppure no? Senza nessun moralismo fa capire quanto sia fondamentale la libertà individuale di ogni essere umano. accogliere qualunque espressione anche non conforme o non... e non parlo solo dell'omosessualità di uno dei figli, ma anche dell'altro che vuole fare lo scrittore, non l'industriale della pasta. Insomma, quanto sia fondamentale l'educazione alla comprensione che qualunque scelta individuale vada rispettata. E siamo allo sport, festa del ciclismo provinciale sabato prossimo nella Sala dei Grandi, inizio alle 16 di questa cerimonia che vedrà prima il saluto del presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri, del delegato provinciale CONI di Arezzo Alberto Melis, di Antonio Martini, presidente del Comitato Federazione Ciclismo Italiano di Arezzo, e ancora Daniele Bennati, commissario tecnico del Nazionale di Ciclismo, Fabio Forzini, consigliere federale della FICI, e Saverio Metti, presidente del Comitato Regionale. Verranno premiati Fausto Sarrini, giornalista per tanti anni della Nazione di Arezzo, Elisa Ferri dell'Olimpia Valdarnese, campionessa italiana di mountain bike e ciclo cross a livello giovanile. L'ufficio sport della provincia, l'ufficio permessi della prefettura, targa anche alla memoria di Ezio Mannucci, storico, tecnico e dirigente della Fracor Levane e conosciuto a livello nazionale. Adesso invece parliamo di kickboxing, perché domenica prossima, 19 febbraio, ci sarà un grande appuntamento proprio ad Arezzo. Le stelle del ring tornano in città. Sarà infatti il teatro tenda di Via Mendola ad ospitare la 24esima edizione del Gran Galà degli Sport da combattimento, domenica 19 febbraio. Ogni incontro è particolare, perché sono professionisti, sono gente che comunque sono da tanti anni in questo mondo di sport da combattimento e di conseguenza sono tutti di alto livello. L'evento, promosso dal team Iachini, patrocinato e sostenuto dal comune di Arezzo e dalla fondazione Arezzo in Tour, promette di catalizzare centinaia di atleti professionisti ed amatoriali di kickboxing per una giornata all'insegna di adrenalina e spettacolo. Come sempre quando c'è le stelle del ring c'è anche il comune di Arezzo che dà la mano, il patrocinio, in questo caso l'utilizzo gratuito per la domenica del teatro tenda. Una manifestazione importante con tutta la giornata di domenica, quindi incontri la mattina e poi i conti dei professionisti il pomeriggio con tanto pubblico che riempirà questa struttura comunale. Circa 200 gli atleti tra 6 e 40 anni provenienti da ogni parte della penisola che si confronteranno tra loro anche qualche aretino. Ne abbiamo tre della nostra zona, uno di Capolona, Corsetti e Lorenzo, abbiamo Daniel Valleverea di Monte San Savino e abbiamo Vassilo Visebastian che è di Arezzo. Chiudiamo con questo servizio invece dedicato al centenario dell'Arezzo Calcio. Domenica 19 febbraio alle 14.30 all'Arezzo, ospita allo stadio comunale il Ghiviborgo. È una partita importante per quello che è il proseguo del cammino degli Amaranto, ma non solo. C'è un altro motivo. Sarà possibile, infatti, conoscere i bozzetti che sono stati realizzati dai tifosi per la scelta del logo del Comitato per il Centenario dell'Arezzo Calcio. Sono arrivati 22 bozzetti, non solo da tifosi aretini, ma provenienti anche fuori dai confini della regione toscana. Saranno allestite due postazioni per poter esprimere le proprie preferenze. Una di queste sarà allestita qui in Curva Sud, proprio nei pressi della sede di Orgoglio Amaranto. E un'altra postazione sarà allestita qui, all'ingresso della tribuna laterale sud. Come detto, ogni tifoso che domenica sarà allo stadio riceverà la scheda dove poter esprimere fino al massimo di tre preferenze. E ovviamente il suo nome sarà registrato in un apposito elenco, in un apposito registro. Dopodiché, ovviamente, si potrà procedere con la votazione. Come detto, appuntamento nel prepartita, finale 14.30, momento del calcio d'inizio. E poi spazio nel corso dell'intervallo alla votazione. Urne chiuse all'inizio del secondo tempo e poi, a quel punto, al termine della partita, via allo spoglio dei voti per conoscere il logo che accompagnerà la società sportiva Arezzo, Comune di Arezzo, Orgoglio Amaranto e Museo Amaranto nell'anno del centenario. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio con un appuntamento che fa il suo gradito ingresso proprio da questa sera nel nostro palinzesto, ovvero gli spettacoli del Polvarone. Buona visione, grazie, arrivederci. Grazie a tutti.